In generale vedremo caso per caso, salutiamo anche la Farga, quali sono le persone tossiche, le persone che ci possono rovinare la vita, soprattutto in questo caso facciamo degli uomini, però potrebbero poi valere anche per donne, perché ci sono anche donne che ti rovinano la vita. Intanto è importante identificare, prima vedremo un insieme di comportamenti che possono essere giudicati, potremmo definirli tossici o comunque negativi, e poi cercheremo di capire quali sono le persone, invece le tipologie di persone che potenzialmente mettono in atto questi comportamenti. Salutiamo Viviano e salutiamo Franco. Ricordo che chi volesse entrare in chat, cioè chi volesse, intanto se volete mettere un like, il like non costa nulla e fa girare il video su YouTube, quindi intanto saluto Patrizia, se mettete un like basta che cliccate sul pollice in su, mettete un mi piace, che date un contributo gratuitamente, ovviamente non vi costa niente a far girare il video. Ovviamente se qualcuno vuole fare una donazione può farla cliccando sul dolarino, se qualcuno vuole abbonarsi al canale per usufruire degli vantaggi degli abbonamenti, come ad esempio le lezioni che faccio settimanalmente, può abbonarsi al canale e selezionare l'abbonamento che vuole. Ma intanto cerchiamo di capire quindi quali sono, come riconoscere, quelli che sono i comportamenti tossici. Allora, tutti i comportamenti manipolatori sono comportamenti tossici. Le persone tossiche spesso cercano di manipolare gli altri per ottenere quello che vogliono. Possono utilizzare, quindi manipolare cosa vuol dire? Fare leva su, diciamo, situazioni particolari, come ad esempio fare leva sul senso di colpa, fare leva sulla vergogna, fare leva sulla paura per controllare le persone. Ecco, un saluto a Rossella. Quando incontri delle persone che fanno leva sulle tue paure, fanno leva sui tuoi sensi di colpa, fanno leva sulla tua vergogna, un saluto a Piera, devi levartela dai maroni. Un saluto anche a Adriano Apparatore, iscrivetevi anche al canale dell'Apparatore, culte busanti. La manipolazione, un saluto a Green Apple from London. La manipolazione è questa. Un saluto a Roxy, Rose e Rosa. La manipolazione è proprio quella, quella di far leva su, diciamo, paure, sulle paure delle persone, che poi possono manifestarsi come sensi di colpa, possono manifestarsi come paura della vergogna, e queste cose qua. Ma anche un altro comportamento sono i comportamenti egoistici. Spesso le persone tossiche agiscono solo in base ai propri interessi, senza considerare minimamente gli interessi degli altri. E tra l'altro hanno delle aspettative irrealistiche nei confronti degli altri e sono super esigenti, quindi sono le persone che ti tolgono e non ti danno. Una live insieme su queste cose applicate alle sette? Sì, possiamo farla molto volentieri, certo, certo. Quindi farò anche una live poi, adesso che organizzeremo, con l'Apparatore, che adesso è un po' senza voce, ma anch'io c'ho sto raschietti in gola a sta voce che se ne va. Anche i comportamenti negativi, ad esempio. I comportamenti negativi ci sono le critiche, le persone estremamente giudicanti. Questo vale anche nelle sette, ovviamente. Molte sette utilizzano queste categorie, no? Comportamenti giudicanti e comportamenti negativi, no? Come dire, ti giudicano male. Ti giudicano male al punto tale che in alcuni casi, come diceva, ad esempio, anche il papà della tirana Apparatore, Maurizio Apparatore, quando una persona fuoriesce da un certo tipo di religione viene giudicata male, viene giudicata negativa, viene giudicata il diavolo, insomma. Quindi questo è un'altra cosa che dobbiamo tenere presente. Sono persone negative, sono comportamenti negativi. Tra l'altro, questa tipologia di persone, fate attenzione perché sono le persone pettegole. Cioè, le persone pettegole, le persone in che nel gossip, fate attenzione, io le chiamo le portinaie. Non perché ce lo co le portinaie, perché poi dico i catramisti, ah, parli male dei catramisti, dei sciampisti, ah, parli male dei sciampisti. Ah, ok, un controcambio saluto. Ma non si tratta di catramisti, sciampisti e portinaie. Sono degli, come dire, delle icone, no? La portinaia è l'icona dell'essere a pettegola. Poi, che lo sia o meno, non è che tutte le portinaie lo saranno, però è tanto per dire, no? Quindi le persone che sono incline alla critica, al gossip, alla diffusione delle voci, al far passare voci, levatevele dai maroni. E questo è un'altra cosa. Poi andremo a vedere le persone, quali sono le persone. E poi ci sono anche, ad esempio, persone che hanno comportamenti instabili, no? Persone che hanno umore altalenanti, persone che cambiano spesso idea, persone che agiscono in modo imprevedibile, persone che, come dire, sulle quali non puoi fare affidabilità. È un dato di fatto, no? Comunque fate attenzione, come dicevo, alle portinaie, nel senso alle persone pettegole. Perché le persone pettegole, le persone che giudicano, le persone proiettate sul giudizio, levatevele dai maroni. Anche gli uomini sono estremamente... E' quello che ti dice, ah, ma come sei vestita? Ah, ma qua? Ah, ma là? Ma fuori dai coglioni. Perché sono inclini, diciamo, alla diffusione di voci, sono inclini alla, come possiamo dire, talvolta anche alla diffamazione, il pettegolezzo. Eh, esatto, esatto. Stare a spettegolare. Le persone che spettegolano, non è una cosa innocua, lo spettegolare. Persone che non sono riservate, che tu gli dici una cosa e la riportano subito ad altri, che poi magari te la riportano a te. Quindi, sono tutta una tipologia di persone che, come dire, è meglio toglie di essere dei maroni. Anche le persone invidiose, ovviamente, le persone invidiose anche, spesso le persone invidiose sono anche pettegole, perché sono due facce di essere la medaglia. È difficile che una persona invidiosa non sia anche pettegola, perché spesso lo sono. E poi, e poi ci sono anche, eh, sì, sì, turbato i miei capelli o la mia marina, esatto, esatto. E poi ci sono anche, diciamo, i comportamenti aggressivi. Ecco, i comportamenti aggressivi non dovete mai tollerarli per nessun motivo. le persone che possono essere aggressive, non solo fisicamente, beh, fisicamente è ovvio che, come dire, ma anche verbalmente. Ok, persone che hanno difficoltà, ad esempio, a controllare la loro rabbia. Ovviamente, diciamo, se noti questi comportamenti in una persona, devi tenerti alla larga, fondamentalmente. E poi, diciamo, questi sono i comportamenti in generale, no, che mettono in atto personaggi che di fatto poi ti rovinano di fatto la vita, che potrebbero rovinarti la vita. Questo dobbiamo tenerlo presente. Beh, appunto, persone che giudicano, tenete presente che il meccanismo proiettivo la fa da padrone in questi casi, no? Ci sono persone che, come dire, proiettano i loro difetti sugli altri e tendono a giudicare, no, tendono a esprimere. Le persone che giudicano, le persone giudicanti, sono sempre estremamente negative ad togliersi dai maroni. Quello che, ma anche, ci sono persone, eh, vabbè, ma tutti giudicano. Tutti giudicano, non è vero. Poi ci sono diversi tipi di uomini che potrebbero essere considerati sbagliati in amore, diciamo, tra cui, ad esempio, l'uomo che, io parlo sempre nell'ottica di una relazione interpersonale, perché bisogna sempre definire un obiettivo. Certo, chi ti fa sentire inadeguata, certo, certo, ti giudica male, ma, poi, quali sono questi tipi di uomini? Partendo dal presupposto che una persona vuole una persona una relazione stabile, gli uomini sposati, ad esempio, perché sembra strano, ma ci sono tantissime donne e ce ne sono tante veramente che dicono, dicono loro, poi non lo so, che si innamorano di uomini sposati e poi non passano altro a fare che lamentarsi, tra cui una di quelle lamentele che dicono, ah, io non sapevo che fosse sposato. Questo ho già detto in diversi, in diversi video, no, teniamo presente che non è possibile che tu non riesci a capire che un uomo è sposato. Questo è praticamente impossibile. Esatto, come dice giustamente l'apparatore, in alcune congregazioni religiose bisogna fare attenzione. quindi, questo è un punto molto importante, no? Cioè, questo è un punto veramente importante tenere presente questo fatto che le persone impegnate sono già impegnate con altre. Se tu, questo direi che è un peccato di ingenuità fondamentalmente, ma anche un peccato di stupidità, perché se tu hai a che fare con una persona che ha già un marito, ha già una moglie o ha già un marito, diciamo, a seconda del sesso, è inutile che cerchi di inserirti, no? Ecco, quello che invece dice la Caterina che i uomini sposati restano nella zona di comfort anche amando, non amando più la moglie, non è vero che non amano più la moglie, non è vero, questo vi sbagliate voi, amano la moglie, e questo è quello che non capite, questo è quello che non capite, è il grave errore che fanno le donne, credono che se un uomo sposato viene a scopare con te, non ama più la moglie, non è vero! Non è assolutamente vero, è la balla che ti raccontano tutti, non amo più mia moglie, sì, vabbè, ma la fede al dito magari se la tolgono, no? Però d'estate, ad esempio, potete guardare se al posto della fede al dito, se al posto della fede al dito ha magari, come dire, per il sole ha quel coso lì non abbronzato, questo è un altro segnale. Ma gli sposati che non ti avvisano sono i peggiori? Non è vero, non è vero, non è che sono i peggiori, i peggiori sono quelli che ci cascano, perché, come dicevo prima, non è possibile, non è possibile non accorgersene, se uno non se ne vuole accorgere, può anche, diciamo, come dire, può anche entrare nella sua stanza, possono anche atterrare un'astronave nel suo giardino e non se ne può accorgere, mi ha attaccato i bacilli su WhatsApp, esatto, esatto, però, il concetto di fondo è che, non è vero, come sta dicendo la Faglia, che un uomo sposato non tradisce la moglie, la ama e la tradisce, anzi, oserei dire questo, la tradisce proprio perché la ama, perché sennò la lascerebbe, e questo, sembra stato, perché per gli uomini è diverso, poi mettere rispetto alle donne, sesso e amore sono due cose diverse, come mele e pere, cioè, perché sennò gli uomini non andrebbero a cercarsi le escort, mica amano le escort, no, se uno va da una escort, non è che ama la escort, non è che ama la escort, è che, diciamo, non, non, non è vero, che non ama la escort, eppure il sesso e l'amore sono distinti, certo è che se una, una relazione con uno che è russo, che già, già il fatto che sia russo e che, che dice che è libertice, i russi sono, si sposano tutti, basta studiare un minimo di cultura, cioè, hanno tutti come perlomeno una moglie, è proprio parte della tradizione, ma sì, basta credere alle persone, se tu credi alle persone, va bene, comunque, allora, il problema è che uno vede quel che vuol vedere, se non vuol vedere, non lo vede, può anche passare lì davanti, diciamo, come dire, un'astronave piena di alieni, che se tu non credi agli alieni, non la vedi, d'altra parte, è vero, è quello che non vogliamo vedere, non lo vediamo, pensate che quando, diciamo, le navi spagnoli, i galeoni spagnoli erano andati per la prima volta nelle, diciamo, avevano invaso, diciamo, l'America del Sud, il Messico, questo qua, le popolazioni locali non avevano neanche guardato, non avevano neanche guardato le cose, quindi questo è un concetto di fondo, quindi tenete presente che gli uomini possono tranquillamente, anzi, amano la moglie e proprio perché l'amano la tradiscono, perché se non l'amassero non la lascerebbero, poi le donne si fanno tutti i film che gli uomini che vanno a letto con loro non amano più la moglie, ma questo è un film che si fanno loro semplicemente per la loro dignità, perché non accetterebbero, diciamo, di essere delle svuote a palline da tennis, il concetto è quello, no? Se tu dici questo non ama la moglie, ama me, viene con me, sta con la moglie per qualcosa, non accetti e per darti dignità, per non accettare di essere una svuota a palline da tennis, ma in realtà il tuo ruolo è semplicemente quello della svuota a palline da tennis, punto. Un uomo può tranquillamente tradire la moglie e amarla, perché il sesso è un altro film, è come dire l'amore, l'amore, il sesso, il sesso, per un maschio funziona in questo modo, no, non è che si deve scordare il sesso, no, non è che si deve scordare il sesso, è che dopo un po' di tempo, normalmente, normalmente, e poi ci sono tutte le eccezioni, le relazioni sentimentale affettive tendono a diventare delle, dei sodalizi d'amore, no? Così si chiamano, cioè la passione per qualche motivo tende a scendere, ma questo non lo dico io, lo dicono le neuroscienze, secondo le neuroscienze, ma poi uno crede quello che vuole, eh ragazzi, volete credere che lasciano la moglie, che non lasciano la moglie e mamano voi, se vi fa piacere crederlo, credetelo, credetelo pure, credetelo pure, ma non è così, cioè la passione, l'amore è fatto da tante cose, la passione è una componente, diciamo, no? Che tendenzialmente tende a finire abbastanza in fretta, le neuroscienze dicono entro 18 mesi finisce, insomma, quindi questo è un dato di fatto, non è che si stancano, è proprio una cosa, è una questione fisiologica, ma per i maschi la sessualità non ha nulla a che vedere con l'amore, infatti amano la moglie, l'amano nel senso che sono collegate affettivamente, poi ci saranno anche quelli che non l'amano più, ma nel 90% l'amano comunque, anche se magari vanno con una escort, ma lo fanno semplicemente per sfogo, anzi, diciamo che trovare sessualità di fuori è un motivo per, diciamo, mantenere poi il rapporto all'interno, ripeto, non è sempre così, ma è spesso succede così, e non la lasciano perché l'amano, l'amano ma non ci vanno a letto, dipende cosa, se voi intendete l'amore con il sesso non c'entra niente per i maschi, quindi poi, per esempio, diciamo, pensatela come volete, insomma, beh, sì, poi ci sono uomini che vivono un amore platonico e quello potenzialmente se lo vivono da subito è scattato un tabù dell'incesto, in qualche modo, diciamo, ti hanno identificato come una donna angelicata o comunque no, c'è qualcosa, allora, ovviamente, normalmente quando parte una relazione all'inizio c'è la passione, poi col tempo si diluisce, soprattutto se c'è una convivenza, insomma. Comunque, queste sono situazioni che si sviluppano sempre, poi, quindi, l'uomo impegnato se tu vuoi, diciamo, avere una relazione stabile, lascialo perdere, perché poi ci sono anche quelli che lasceranno la moglie, ovviamente, ci sono anche quelli che lasceranno la moglie, ma sono pochi, la maggior parte non la lascia, però, vedete voi, insomma, cioè, vedete voi, le convivenze per i maschi, diciamo, fanno calare la passione in 18 mesi, non lo dico io, non è che lo sto dicendo io, lo dicono le neuroscienze, fate una ricerca su Google, fate una ricerca, ormai abbiamo Google, fate una ricerca su Google, neuroscienze durata della passione, mettete questa chiave di ricerca e vedrete che vi diranno che la passione per il maschio, diciamo, passione intesa come convivenza, dura circa, al massimo, 18 mesi, poi non è che non finisce, ma, diciamo, tende a esaurirsi, non lo dico io, comunque. Poi, ovviamente, ripeto, se una donna gli sta bene di avere una trasgressione anche lei, non c'è nessun problema. Ma quanti uomini non ho queste statistiche, comunque, queste statistiche non ce l'ho. Comunque, provate ad andare a vedere su Google. Allora, un'altra tipologia di persone che è comunque da scartare è l'uomo troppo possessivo. La seconda tipologia è l'uomo troppo possessivo. Questo tipo di uomo geloso che vuol controllare tutti i tuoi comportamenti, tutti i tuoi movimenti, tenderà ad imitare la tua libertà e a farti sentire soffocata, a farti sentire bloccata. E credo che sia, credo che sia, credo che sia un'altra situazione estremamente negativa. Credo che sia una situazione estremamente negativa e questo è un punto fondamentale, no? Questo è un punto fondamentale. Anche qua non confondiamo la gelosia e la possessività con l'amore. Sono due fattori completamente diversi. Se una persona è possessiva e gelosa, non ti ama. Se una persona ti controlla, non ti ama. Dal mio punto di vista è una persona tossica perché il possesso non ha niente a che vedere con l'amore. Poi possono essere gelose anche le donne, non è che sono soltanto gelosi di uomini. Non si tratta neanche tanto di maschilismo, si tratta proprio del senso del possesso, non nel vivere la relazione. Ma d'altra parte noi siamo abituati a dire questo, no? Quando parliamo come leggevo diceva forse la nena diceva o forse qualcun altro diceva giustamente siamo abituati a dire mia moglie, mio figlio, mio marito, mio qua. Ma non è mio. Non è che tua moglie è tua. Tu sei sposato con, uno potrebbe dire io sono sposato con Anna. Ma non deve dire mia moglie Anna. Noi non siamo abituati a dire questo, perché le parole determinano il comportamento. Dovremmo dire io sono sposato con Anna, io sono sposato con Francesco, io sono fidanzato con Giuseppe, non lo so, ma dire mia moglie, mio marito, ma anche mio figlio. Se tu avessi una figlia femmina non lo so, il consiglio direi che ognuno deve, ecco io non voglio dar consiglio, ognuno vive la vita come vuole. Poi è ovvio che, come dire, se uno può decidere di avere una libertà di essere single, cioè ognuno è portato a qualcosa. Certo è che se hai che fare con una persona gelosa, le persone gelose sono, e ti ho letto e ti ho risposto, Farga, le persone gelose sono estremamente negative. le persone gelose sono estremamente negative. Poi ci sono anche uomini libertini che si sposano, o dendi che si sposano, ma il concetto di fondo è che il libertino che si sposa lo fa normalmente per una questione di facciata. Ci sono anche persone che fanno matrimoni di facciata, anche nell'ambito dell'omosessualità. Ci sono persone, uomini che di fatto sono omosessuali che nulla contro, ovviamente, anzi, ognuno, perché qua se dice una parola contro ti fucilano, quindi nulla contro nulla, ma molti, ci sono uomini omosessuali che magari si sposano, magari perché ricoprono dei ruoli diciamo importanti, immagino che ne so, purtroppo viviamo nel 2023, ma magari che ne so, un generale dell'esercito che venisse visto come gay potrebbe non essere, magari non è vero, non lo so, non lo so io, magari ci saranno, però non mi sono mai posto questa domanda, no, perché, e quindi magari in alcuni casi ci sono persone che fanno, diciamo, ci sono persone che fanno, beh, il dandy è un libertino un po' effeminato, diciamo, non è il macio, il dandy non è il macio, è tendenzialmente libertino, ma tendenzialmente effeminato, fondamentalmente, comunque, un saluto anche a Nadia, quindi, quindi questo è un po' un concetto anche fondamentale, no, se una persona è gelosa, ti rovinerà la vita, fondamentalmente, secondo me, ripeto, sono le mie opinioni personali, poi, e la gelosia non è sintomo d'amore, ora, se uno scherza e fa la battuta, ci sta, oh, non è che, come dire, ma persone costantemente gelose, che ti dicono, no, no, tu con la minigonna non devi uscire, eventualmente, metti la minigonna, per dire, no, solo quando esci con me, altrimenti, metti i pantaloni e le scarpe basse, beh, come dire, ci sono persone che arrivano anche a, come dire, a controllare il tuo look, il tuo abbigliamento, no, come dire, come se una donna mi dicesse, dicesse a me, no, tu con la camicia non devi uscire, devi mettere la felpa, per dire, oppure devi mettere, che ne so, qualcosa, ci sono persone che arrivano anche a controllarti sull'abbigliamento, no, ti dicono, sei così scollata, non esci, semmai quando usciamo assieme, al lavoro, non ti metti la minigonna, ti metti i pantaloni e le scarpe basse, e per dire, ci sono anche situazioni di questo genere, no, persone che addirittura arrivano a controllare, a controllare l'abbigliamento, no, quindi, quindi evitiamo, secondo me, la gelosia, intanto è una bagliare di cani che attira i ladri, perché la gelosia è una bagliare di cani che attira i ladri, poi la gelosia è anche le persone gelose perché non hanno fiducia degli altri, no, e non avendo fiducia degli altri non hanno fiducia di se stessi, cioè nel senso che là non si credono, però, come dire, se io sono abituato a tradire, magari penserò che anche lei vorrà tradirmi, quindi tenderò a essere geloso. Beh, avere una relazione con una famiglia, esatto, omnia munda mundi, tutto è puro per i puri, giusto, omnia munda mundis, tutto è puro per i puri, dobbiamo tenerlo presente, questo è un fatto fondamentale, le persone che vedono male, le persone che vedono male, ti rompono i maroni, fondamentalmente, quindi io, questa è una categoria di persone, di uomini in questo caso, ma anche di donne che escluderei totalmente dalla situazione, questo è vero, poi anche le persone che, come dire, un dress code, certo ci vuole, no, cioè se tu vai a lavorare in banca per dire, seminuda, magari è la banca stessa che ti dice che ha un dress code, però, diciamo, ci sono persone che sono veramente, oppure persone che ti dicono, ah vabbè, ma se tu, se io e te stiamo assieme, non devi uscire più con le tue amiche, non devi più, oppure non devi più vedere i tuoi amici, cioè persone che vogliono controllare la tua vita, cioè non è che quando tu hai una relazione con una persona, questo deve iniziare a controllare la tua vita, beh, allora, la differenza tra gelosia e rispetto, allora, beh, certo che se lui ti dice, vado, frio il pranzo a una pseudamica, beh, dipende, diciamo, dipende cosa intendi, cioè, ovviamente il concetto di fondo è che, dipende quanto è pseudamica, perché se sei una tromba amica, come dire, poi il concetto di fondo qual è? Che voi andate a innamorarvi dei libertini, no? E poi il libertino non è che ti manca di rispetto, il libertino è il suo, è la sua strategia, portarsi a letto tante donne, e andare in vacanza con l'ex, vuol dire che non è più una ex, vuol dire che, come dire, è una donna con la quale ha una relazione, no? perché io non sto dicendo di andare in vacanza, ci fa, ma lui adesso va a convivere con l'ex, ma sta con me, allora non è più una ex, è una che comunque è tornata ad essere, diciamo, ad essere la persona. C'è una ragazza bellissima, è fidanzata con un calciatore famoso, allora la relazione è una fregata, quando lei gli ha rigato la macchina, vabbè certo, se uno riga la macchina e butta il chiave nel tombino, è ovvio che ci sono delle situazioni, questo è, insomma, c'è un po' di cose strane, insomma, beh, questo è un evidente, lasciate questa tipologia di persone, poi anche, diciamo, le persone che secondo me hanno obiettivi di vita completamente diversi dai vostri, ecco, questo non è detto che siano persone tossiche, ma persone che hanno una visione della vita completamente diversa dalla vostra, non è possibile cambiarle, cioè, se voi avete, diciamo, se voi avete delle situazioni in cui voi avete una visione della vita di un certo tipo, e un'altra persona ha una visione della vita di un tipo completamente diverso, per cultura o per tipologia, diciamo, questo è un qualcosa di assolutamente negativo, no? Cioè, nel senso che, come dire, si dice moglie e buoi dei paesi tuoi, però, più che moglie e buoi dei paesi tuoi, moglie e buoi, diciamo, che hanno una visione simile alla tua. se tu vai alla ricerca della famiglia del mulino bianco e hai a che fare con un uomo che, ad esempio, la scelta di avere figli o non avere figli, non è un qualcosa di opinabile, è un qualcosa che, se è diversa, dovete, dovete, diciamo, dovete togliere completamente, dovete, non è possibile, non sono due cose conciliabili, perché chi rinuncia ad avere dei figli quando li vorrebbe si pentirà sicuramente e chi fa dei figli quando non li vorrebbe si pentirà sicuramente e quindi sono quelle cose che nella vita non hanno nulla a che fare. Beh, il match-up dei senso di Akkali sono, insomma, il senso di Akkali io li tratto, ma sono un gioco fondamentalmente. Ecco, quando parliamo di senso di Akkali, sono un gioco fondamentalmente. Certo, se tu mi dici, che ne so, i gemelli, per dire, i gemelli e il cancro ci azzeccano poco se uno dovesse scegliere, no? Gemelli e cancro ci azzeccano poco, però non è che uno si basa sul fatto di dire quello è gemelli e quell'altro è cancro, io sono cancro, non va bene. Però è un'indicazione, ma è fondamentalmente un gioco. Certo, ci sono anche uomini che sanamai hanno detto, ma chi è che dice che ci sono tutti uomini che tradiscono? Mico ha detto che sono tutti uomini che tradiscono, ma che nessuno vuol dire questo. Io sono capricorno, io sono il segno del capricorno ascendente capricorno, quindi sono un capricorno conclamato. Capricorno ascendente capricorno, quindi in tutte le salse che mi rigiri sono sempre un segno di terra del capricorno. Ecco, e poi diciamo ovviamente un'altra tipologia di uomo che devi levarti dai maroni è quello che ti tratta male. C'è un uomo che ti maltratta, non soltanto fisicamente, che questo mi sembra evidente, ma anche verbalmente. Le persone che ti rendono insicura, che ti svalutano, questa tipologia le persone fuori dai coglioni istantaneamente, le persone maltrattanti, le persone maltrattanti vanno eliminate totalmente, vanno eliminate totalmente, quindi le persone che ti maltrattano sia fisicamente sia verbalmente vanno e allontanate, vanno eliminate dalla vostra vita. Questo è molto importante, fondamentale. E poi il sesto tipo di persone, di uomini che vanno lasciati dal mio punto di vista, poi ognuno fa quello che volete, sono le persone che hanno delle dipendenze, cioè l'uomo che ha problemi di dipendenza. Potrebbe essere dipendenza da droga, dipendenza da alcol, dipendenza da gioco, non trascurate la ludopatia, cioè questa le persone che hanno dipendenze, ma non soltanto che sono tossici che si fanno di eroina in vena, ma anche da alcol, anche da ludopatia, e la ludopatia è una delle dipendenze più gravi secondo me, a parte la droga e l'alcol, diciamo, subito dopo viene la ludopatia, perché la ludopatia è una roba allucinante, no? È una roba allucinante. Dipendenza da sesso, boh, sì, c'era Sting che dicevano che doveva fare l'amore, però quello ci credo pure poco, insomma, anche le donne possono avere, ma comunque, ma io credo che le tre dipendenze peggiori in assoluto siano dipendenze da droga e alcol, diciamo così, se vogliamo dividere, e poi la ludopatia, dipendenza da gioco, perché ci sono persone che dilapidano dei capitali, come se tu hai una, ti sposi, diciamo, hai la sfiga di sposarti o talvolta di convivere con una persona ludopatica che ha la mania di andare a giocare e ti rovinerà la vita, ti rovinerà assolutamente la vita, ti rovinerà assolutamente la vita, quindi questo tipo di persone e poi secondo me anche, diciamo, dal mio punto di vista anche ovviamente la dipendenza da fumo, da fumo nel senso di sigaretta, perché, diciamo, giocare a scacchi no, io quando parlo di ludopatia intendo dipendenza da gioco a pagamento, cioè, non intendo se uno va a giocare a bocce tutto il giorno, gioca a scacchi giorno e notte sul telefono, non sto parlando di questi tipi di, quando parlo di ludopatia parlo di persone che giocano soldi, poi, se uno ama giocare a scacchi può anche giocare tutta la notte, no? Se ami giocare a bocce e vai alla bocce offerto il giorno, come dire, ti passi il tè e come fare uno sport, no? Che c'entra questo? La ludopatia è patia, è patologica, no? E persone che giocano soldi, alle macchinette, lì, al poker, a tutte le cose, no? Poi, secondo me, anche, diciamo, secondo me, un qualcosa legato, diciamo, un qualcosa legato alla, come possiamo dire, alla dipendenza da sigaretta, da fuma, anche il fumo da sigaretta è un qualcosa di negativo, secondo me, soprattutto per un non fumatore, perché la convivenza tra un non fumatore e un fumatore è sempre negativa, perché è più facile, ricordatevi, che possa iniziare a fumare chi non fuma che smettere chi fuma e questo è il problema, no? Poi, ripeto, è una mia visione personale, ovviamente, però, personalmente, una donna che fuma non la vorrei, per dire, no? A parte che fa schifo il sapore, cioè, sembra di, come dire, baciare un po' sacenere, fa proprio schifo il sapore, però, poi, diciamo, è anche comunque una dipendenza, insomma. Quindi, questo è un qualcosa, beh, persone che ti vogliono far bere sono persone comunque negative, insomma, un belly, se avuto un mal di pancia della sera, è certo, ma, questi, ci sono persone che, tra l'altro, pensano che se tu non bevi sei strano, sei strana, ecco, queste persone scartatele perché sono totalmente negative, totalmente da scartare,